Ho un problema in casa, lo spioncino della mia porta non funziona, quindi ne ho preso uno tecnologico. Apriamolo, questo qui è lo schermo, questa invece è la sua telecamera. Configuriamolo per bene e smontiamo il vecchio spioncino. Adesso inseriamo quello nuovo, colleghiamo con molta cura la parte dello schermo ed ecco fatto. Proviamo a passare davanti alla porta. La cosa assurda è che puoi perfino vedere tutto da remoto con lo smartphone e ti arriva perfino una notifica quando qualcuno è davanti alla tua porta. Puoi anche personalizzare il campanello con il suono che ti piace di più e se in casa non c'è nessuno quando ti suonano puoi rispondere in remoto con il tuo telefono e camuffare la tua voce e vede anche al buio. Direi che questo lo posso buttare. Ciao ciao!